a fine anno si sono aggiunti dei nuovi amici proprio qui con noi e sto parlando di Lucky Duck Games li abbiamo intervistati a Lucca insieme a Greta e abbiamo intervistato appunto Vincent loro creano questi giochi con supporto digitale che si chiamano Digital Hybrid bellissimo mi piace tantissimo e qui ho Monster Chef, gnam gnam che nasce come, adoro, nasce come Kids Game ma in realtà è adatto a tutta la famiglia e in cosa consiste brevemente abbiamo questi mostri molto carini che troviamo nella soffitta di nostro nonno ma badate, non dobbiamo ucciderli sostanzialmente ma nutrirli oh, veramente un gioco senza violenza sui mostriciattoli che sono tanto cuccioli e sono coloratissimi e cucciosissimi, ma molto molto bello mi piace, mi piace preparare di manicare sempre di Lucky Games tra l'altro abbiamo anche Kids Chronicles un altro gioco pazzesco per famiglie, super divertente, adatto alle feste in questo caso siamo degli appendisti mago e siamo all'interno di questi reami e dobbiamo andare a risolvere dei misteri appunto cercando degli indizi ok, figo potremmo usare l'app per immergerci in questi reami e vivere la nostra storia all'interno del gioco veramente molto interessante che meraviglia che meraviglia